L'assessorato alle infrastrutture della Regione Marche ha stanziato un milione di euro per la mobilità sostenibile e i percorsi ciclabili del San Bartolo nel bilancio regionale 2023-2025. A ciò si aggiunge il documento preliminare già redatto inerente alla progettazione per l'individuazione dei percorsi di collegamento tra la ciclovia adriatica prevista lungo la strada statale 16 e i borghi storici del San Bartolo, un progetto che mira a rendere il parco sempre più accessibile e centrale nella visione di turismo regionale. Non potevamo far sì che la ciclovia adriatica che andiamo a completare con 27 milioni e mezzo di stanziamenti passasse al di fuori del parco e allora abbiamo deciso di destinare un milione di euro per la realizzazione di quattro percorsi che dalla ciclovia adriatica portano verso le emergenze storiche, culturali, ambientali e naturalistiche del parco. Sto pensando da Soria fino a Santa Marina, da Santa Marina fino a Fiorenzuola, non dimenticando il Castellaro, da Fiorenzuola fino a Castel di Mezzo, Vallugola e arrivare a Colombarone. E questa è la valorizzazione che vogliamo fare del parco, per troppo tempo dimenticata negli anni passati anche nelle semplici manutenzioni dei percorsi. Allora vogliamo far vivere i tanti turisti che arrivano nelle Marche. In questo promontorio che ricordiamolo è il primo che da Trieste fino al Gargano si getta nel mare l'esperienza di poter vivere paesaggi rurali ma anche i paesaggi marini dalla Falesia alta fino a 230 metri che si affaccia sul mare adriatico. Allora abbiamo messo a disposizione del San Bartolo risorse straordinarie per migliorare i percorsi, i passaggi storici che ci sono all'interno dei suoi boschi ma abbiamo voluto fare di più. Mettere a disposizione le risorse ordinarie per la gestione del parco sin da inizio anno perché il parco possa progettare, programmare il proprio futuro, organizzare iniziative per la valorizzazione di quello che è uno straordinario moltiplicatore turistico per la nostra regione ma anche moltiplicatore del PIL turistico della nostra regione. Io l'ultima volta che ho scritto al governatore che il parco è in aferrari, che il consiglio direttivo e il presidente sono i piloti ma se non arriva la copertura finanziaria anticipata e su dei progetti non possiamo fare niente. Credo che oggi abbiamo buttato le basi per poter iniziare un percorso dove facendo squadre con i residenti, gli abitanti, le attività produttive, gli agricoltori possiamo condividere un progetto per una bella strategia.